Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Lucas Games su YouTube e su quella piattaforma di live tutti i giorni con Football Manager e quest'oggi vi presento un 4-4-2 con Cedrocampo a rumbo, secondo quelle che erano le idee di Prandelli, che è stato cittadino nazionale noi non abbiamo vinto chissà cosa con Prandelli per carità ma mi piaceva molto quel Cedrocampo che veniva definito rotante molto particolare perché quei quattro giocatori potevano anche intescambiarsi continuamente per mettere a punto di difficoltà l'avversario chiaramente certe cose non si possono fare proprio benissimo anche su FM, quindi quello che ho fatto è fotografare una delle tante versioni di quel Cedrocampo a rumbo portandola appunto in questo 4-4-2 a diamante, vediamo! Partiamo come al solito dai risultati con Udinese, come potete vedere con questo modulo ha vinto il campionato con 99 punti, 16 punti in più rispetto al Napoli che è stato secondo con un Molina che è il miglior assist della Serie A, con un Beto, miglior medievoto della Serie A Beto ha anche secondo canoniere dietro a un leggendario e intramontabile immobile andiamo anche a vedere magari in senso più esteso questa classifica con 68 punti di differenza reti, 25 le reti subite, 93 le reti fatte quindi miglior attacco e anche miglior difesa andiamo anche a vedere un po' il centro dati dove si può appunto notare che tutte le statistiche sono decisamente superiori alla media delle altre squadre di Serie A andiamo anche a notare nello stato partita che non ci sono stati barbatrucchi, la partita è stata salvata solamente 3 volte, la prima e l'ultima sono assolutamente obbligatorie quindi non si può evitare di salvare un solo salvataggio nel mentre, durata ovviamente 4 ore come al solito io vado a giocare tutte le partite di Serie A vado a simulare quelle di Coppa Nazionale e vado in vacanza da una partita e l'altra dopodiché come potete appunto notare l'editor non era consentito ma ovviamente vi lascerò come al solito il save vi gioco per controllare da voi se c'è stato per esempio qualche taroccamento con l'editor esterno, ovviamente non c'è stato se no non sarei così stupido da darvi il save diamo uno sguardo anche a quest'altro save perché come sapete io vado a testare la tattica con più save diversi prima di portarla chiaramente su questa piattaforma e la do anche a dei ragazzi che mi fanno da beta tester e poi vedremo anche un terzo save di uno di questi ragazzi qui avevo il Bologna, sono andato secondo con un punto in meno rispetto al Napoli e vediamo anche chi fa più gol con questa tattica chiaramente le due punte, in questo caso erano Arnatovic e Scamacca e anche l'ADS ovviamente che in questo caso per il Bologna era Soriano terzo e ultimo save che andiamo a controllare con questa tattica, ringrazio il signor Giorgiani che è uno dei tanti tester che mi aiuta quando dobbiamo appunto verificare la qualità delle mie tattiche qui ci ha vinto con l'Atalanta lo scudetto 97 punti, 5 punti in più rispetto a un Milan che ha spinto veramente tantissimo il capoconiere e Muglia il giocatore dell'Atalanta diamo uno sguardo anche agli acquisti fatti con l'Udinese, 3 giocatori soltanto acquistati, 2 a centro campo perché mi servivano delle mezze ali che sapessero fare entrambe le fasi quindi Maggiore e Bastoni, Bastoni comprato quindi per giocare mezz'ala e ha giocato il titolare, tra l'altro costano veramente 2 lire Raspadori perché Deulofeo non mi piace, è un giocatore Deulofeo che non è bravissimo in finazione e freddezza ma guardate appunto Raspadori, finazione, freddezza, senza palla, intuito, oltre che grande accelerazione e velocità poi è chiaro qualche valore magari sarà anche aumentato nel corso di questa stagione perché ovviamente ha giocato benissimo 4-4-2 a diamante con due esterni completi che saranno fondamentali per gli assist come andremo poi a vedere come abbiamo strutturato questi giocatori ma prima potete già notare come fanno veramente valanghe di assist 18 addirittura per Molina e 10 per Udoji questa zona qui molto aggressiva anche più di quella di sinistra perché ovviamente c'è il centroavanti che dà profondità di manovra portando il pallone, Lomodari invece è più statico, riceve e va a fare gol infatti poi è quello che ha fatto qualche gol in più rispetto anche a Raspadori Raspadori ha della sua un grande vantaggio però che a differenza di Beto è ambidesto e questo chiaramente gli permette di avere anche qualche conclusione in più rispetto a quella che ci si aspetterebbe ed è anche un giocatore che poi avendo grande tecnica e passaggi può anche passare il pallone ai suoi compagni molto importante che c'è l'avanti sia così cioè non dico ambidestro ma almeno che abbia un po' più di tecnica e di passaggi rispetto all'Umo Daria perché quello che chiaramente portando in avanti il pallone e palla al piede a differenza dell'Umo Daria deve anche servire i suoi compagni due mezziali a centro campo abbiamo sempre detto che è meglio evitare di mettere due ruoli con lo stesso atteggiamento e istruzioni identiche qui le mezziali sono costruite proprio per essere appunto identiche ma attenzione abbiamo sempre detto che la mezzala così come il carilero è comunque un'eccezione perché se un giocatore che va ad allargarsi non va a sfruttare quello che è la magagna che va a mettere in difficoltà l'engine in questi casi quando si utilizzano due giocatori con lo stesso ruolo atteggiamento e istruzioni ovvero l'engine quando vede due giocatori appunto identici fa fatica a pensare che sono due ne vede solamente uno, ne marca solamente uno, l'altro è libero di andare a fare appunto gol e questa è una cosa che maggiormente crea problemi al gioco quando i due ruoli hanno anche lo stesso atteggiamento d'attacco perché andando appunto in profondità sono ancora più tendenti ad essere pericolosi nella fase realizzativa ma in questo caso uno abbiamo due atteggiamenti di supporto come vi ho già detto quando abbiamo parlato del 3-4 di Zaccheroni quest'anno non creano problemi proprio perché appunto essere in atteggiamento di supporto non vanno in profondità e il gioco non va in difficoltà due sono due giocatori appunto che si vanno ad allargare quindi siete tranquilli potete tranquillamente utilizzare le doppie meziali se sono appunto in atteggiamento di supporto per maggior sicurezza dietro abbiamo un mediano che funge un po' da molla diciamo che il mediano principalmente si piazza davanti alla difesa e fa da filtro attenzione però serve anche un mediano che un minimo sappia anche palleggiare perché deve anche distribuire il pallone a tutti questi giocatori che andranno davanti ora da qui non lo vedete ma prendiamo subito lo skytech per capire i movimenti non vi preoccupate perché poi vedremo ovviamente anche le clip per i movimenti che così magari restano anche più chiare ma quello che voglio far vedere è soprattutto i movimenti che vanno a fare questi ruoli la mezzala chiaramente va a largarsi ma non tantissimo perché i passaggi sono molto corti come andrete a vedere quindi va sicuramente in diagonale in questa zona di campo e in questa zona di campo l'altra mezzala la ds in fase attacco va in avanti quindi va a formare un attacco a 3 in mediano resta a basso mentre gli esterni combat si alzano sì ma difficilmente arrivano qui a meno che non ci sono ovviamente dei buchi che possono sfruttare in un'azione magari decisamente straoffensiva ma di base insomma si fermano in questa zona e quindi possono essere utili anche per la fase di ripiegamento cosa che non avrebbero fatto gli esterni combat di attacco che si sarebbero speedi ancora di più non si spingono tra l'altro sempre e comunque in questa zona di campo anche perché non hanno l'istruzione dell'andare fino in fondo per fare il cross quindi potrebbe esserci anche un cross anticipato quando è che ci sta un cross anticipato? quando ovviamente si crea una situazione in cui la mezzala è rimasta un po' larga magari in fase di ripiegamento e lui anziché andare a sovrapporsi va a lanciare subito verso il centro un filtrante che può essere sfruttato magari dall'ads che potrebbe andare o al goal o magari potrebbe servire appunto i due attaccanti spostiamoci a questo punto nello slot numero 2 dove ho già spostato i giocatori in basso al movimento d'attacco non state a guardare chiaramente quelle che sono i ruoli ma serve per capire appunto cosa si vede quando si utilizza questa tattica il mediano ripeto non l'ho spostato perché di base resta basso quindi è quello che in sostanza fa da molla si muoverà per capirci in questa zona qui centrale chiaramente e chiaramente porterà il pallone ma fino a un certo punto poi andrà a fare il passaggio per la mezzala può fare il passaggio per l'esterno completo potrebbe anche decidere di lanciare più lungo per l'ads però è un po' più raro insomma lui è quello che è l'equilibratore del vostro centrocampo quindi mi raccomando doti di fase difensiva quindi contrasti, marcatura, posizione, aggressività quindi valori importanti se possibile intorno al 14, intorno al 13 queste 4 caratteristiche ma attenzione anche un minimo di doti di palleggio perché appunto come avete visto deve anche distribuire il gioco è una sorta di mix tra un regista arretrato e un gerocampista difensivo quindi mi raccomando un minimo anche in tecnica passaggi, bisogno di gioco, controllo palla qui un minimo si intende se possibile 11-12 è proprio il minimo perché deve anche saper fare la fase di costruzione come vedete non ci sta un vero e proprio regista ma di fatto il regista in pratica sarà il mediano vediamo adesso le istruzioni da dare alla squadra mentalità positiva, fase di possesso in cui dovremo spiegare un po' di cosine ampiezza, attacco abbastanza larga ma molto più corti i passaggi vi ho sempre detto che in linea generale bisogna avere correlazione tra ampiezza e passaggi ma chiaramente questo è in linea generale tranne quando si vanno a creare moduli molto particolari dove sta la particolarità di questo modulo? è chiaramente molto concentrato nella zona centrale ma poi vi spiego anche il perché e chiaramente per quando noi andremo ad allargare l'ampiezza questi giocatori resteranno sempre dentro questa zona di campo quindi rimanendo dentro questa zona di campo per quando chiaramente può essere larga la posizione dei giocatori sarà comunque abbastanza vicina quindi il passaggio è molto corto serve innanzitutto perché i giocatori sono comunque abbastanza vicini due perché voglio che siano estremamente vicini in maniera tale che poi insomma possono anche perdere un tempo di gioco per avanzare e pallar piede l'abbiamo sempre detto se il passaggio è più corto e l'ampiezza è più larga quello che succede è che il giocatore porta di più il pallone in avanti che è quello che voglio per due motivi uno perché così se magari perdiamo palla la recuperiamo subito questo perché ovviamente come potete appunto notare la debolezza teorica di questo modulo dove si trova? nella zona laterale del campo qui i giocatori non ne abbiamo a parte l'esterno completo ma come avete visto non è che si subiscono tratti gol ma proprio perché abbiamo chiaramente sfruttato il primo filtro ovvero quella della densità del centro campo chiaramente questa soluzione dei passaggi corti con l'ampiezza larga si può fare ovviamente perché? perché il gioco non ce la impedisce il gioco impedisce le cose veramente diciamo che non si possono fare come avevo già visto tre anni fa quando parlavamo di come si va a creare una tattica che possa essere appunto efficace mettiamoci chiaramente qua mettiamoci la mentalità molto offensiva se io vado ovviamente per esempio a mettere questa mentalità vedete che il gioco mi blocca in questo caso la perdita di tempo perché è chiaro che se tu vuoi attaccare a sprombattuto non vuoi perdere tempo quindi il gioco te lo fa capire quando una cosa non si può fare questa si può fare ma bisogna utilizzare il cervello per capire perché si può fare per l'appunto la prima spiegazione ve l'ho detta il primo filtro giocatori molto vicini possono perdere il tempo di gioco ma essendo chiaramente molto vicini io passo la palla a quello che sta in avanti si smarca il difendente e va a attaccare la profondità quindi diciamo che il malus dell'andare un po' più lenti viene recuperato in questo modo e anche dal ritmo che chiaramente è molto alto andiamo a togliere chiaramente questo secondo slot ritorniamo qui perché l'altra seconda spiegazione che vogliamo sfruttare l'istruzione delle imbucate attenzione come abbiamo sempre detto per poter fare una vera imbucata quella proprio classica c'è bisogno che i giocatori che stanno sulle fasce ovviamente possano arrivare a trattenere il pallone per poi lanciarlo verso il centro con giocatori che chiaramente vanno in profondità e attaccano appunto la verticale per far questo però abbiamo sempre detto che bisogna abbassare il ritmo di gioco cosa che chiaramente qui non abbiamo perché il ritmo qui è molto alto questo perché deve ribilanciare il fatto che i passaggi sono molto corti quindi cerchiamo di far girare sempre di più il pallone ma essendo appunto una squadra molto compatta con passaggi molto corti con giocatori molto vicini con tanto filtro quello che noi avremo in questa diciamo zona molto di sé del campo è una verticalità sempre maggiore perché in questo caso l'imbucata sarebbe spingere sempre di più in avanti quella che è appunto la mentalità offensiva già dei giocatori che abbiamo messo in campo siccome abbiamo atteggiamenti non sempre d'attacco vedete come le mezzali hanno atteggiamento di supporto per provare a spingere ancora di più i giocatori solo quando hanno però la possibilità di spingere veramente quindi quando hanno il pallone o magari sono senza pallone ma possono essere diciamo serviti da chi sta mantenendo il pallone in questa zona di campo allora andiamo a sfruttare l'imbucata per la spinta verticale e la seconda diciamo funzionalità dell'imbucata così come abbiamo sempre detto quando si sfruttano le sovrapposizioni per sfruttare la sovrapposizione anche in questo caso vivrebbe un ritmo molto basso ma si può utilizzare un ritmo molto alto per mettere la sovrapposizione non per avere una sovrapposizione ma per spingere ancora di più lateralmente quindi è un modo intelligente di utilizzare l'eccezione conoscendo però la regola di base questa chiaramente è una diciamo conoscenza di livello superiore che si può chiaramente ottenere con l'esperienza giocando 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 e giocando questi concetti tento di spiegarvi chiaramente in maniera molto semplificata qui chiaramente in questo video ma se seguite le live ovviamente queste cose le conoscete già perché insomma parliamo di questo continuativamente tutti i giorni non facciamo semplicemente le carriere per provare a vincere ma spieghiamo chiaramente i concetti tattici quindi vi invito a seguire sempre il canale Viola tutti i giorni con FM fase di transizione con pressing a tutto campo e controvedere ma la vera chicca sta qua ovvero per la gestione del portiere passala e terzini ma lancia la lunga quello che accade in sostanza è questo in questo secondo slot si vede come in fase appunto di rilancio da parte del portiere i due terzini si alzano e il portiere ha questa possibilità di lanciare appunto la palla lateralmente per il terzino 1 o il terzino appunto di destra certo alle volte farà come al solito come gli pare piace magari la lancia lunghissima cosa tra l'altro non sbagliata considerando che c'erano tutti questi giocatori al centro ma ripeto è una vera chicca che accade veramente durante l'arco della partita però qui bisogna dire un attimino una cosetta ovvero quando andate in fase di transizione deve essere per forza lancia la lunga e non lancia la bassa perché se io per esempio qui tolgo il settore vedete come il passaggio sarebbe per il terzino basso se io invece metto lancia la lunga vedete come si alza la possibilità di passare il pallone addirittura un po' più in avanti che è quello che ci serve cioè il terzino deve salire e lancia la lunga ci permette diciamo proprio di vedere il terzino che si alza un po' di più altrimenti non si alzerebbe così tanto questa è una chicca davvero interessante questa invece è la fase non possesso con una linea di pressing molto più alta perché dobbiamo subito utilizzare quei tre davanti per andare sul portatore avversario vogliamo anche una linea di difesa più alta in combo con il fuorigioco ovviamente perché vogliamo portare la nostra squadra tutta nella metà campo avversaria appena possibile mentre per quanto riguarda il file scattare il pressing molto più spesso noi abbiamo una fitta rete di giocampisti quindi possiamo permettercelo impedire passaggi corti e portiere perché ovviamente abbiamo due attaccanti che diventano anche tre quindi subito aggredire il difendente quando ha il pallone tra i piedi passiamo alle istruzioni sui singoli giocatori vediamo quindi il portiere passiamo alle istruzioni dei singoli non è stato imposto praticamente nulla per quanto riguarda invece il difensore centrale che imposta quello di sinistra e quello di destra è uguale quindi ne vediamo semplicemente uno contrasti più duri riva di più tira di meno c'è il default già il colore più rischi ovviamente deve stare un po' più largo perché l'esterno completo tende chiaramente ad allargarsi quindi per andare un po' a coprire quella zona di campo quando l'esterno completo è più largo ci sta lo spostamento laterale del difensore che imposta tra l'altro ci sta anche perché il mediano tende a fare da diga davanti ai difensori centrali quindi perché avere due giocatori più o meno nella stessa zona di campo meglio insomma che si sposti e creare un triangolino ancora più efficace in fase di gestione del pallone esterno completo di destra e di sinistra sono identici quindi ne vediamo semplicemente uno sempre detto quando voi avete un solo giocatore per fascia meglio evitare di mettere anche i contrasti duri se no aumentano ancora di più i cartellini gialli perché è una zona molto delicata quella lì in basso a sinistra e in basso a destra crossa più spesso ma non crossa la linea di fondo come vi dicevo voglio che cross siano tanti magari anche da lontano tanto nella zona centrale c'è un sacco di giocatori diciamo dovete essere proprio sfortunati a non beccare quel filtrante quel cross e accettare appunto le partenze un contropiede dell'avversario detto questo corri più rischi tira di meno tira di più deve essere un giocatore molto aggressivo propositivo ma più appunto per passare poi la palla a un suo compagno vi ripeto alle volte diciamo potrà anche avanzare fino in fondo e mettere un cross dentro l'aria cosa tra l'altro super efficace perché avete tre attaccanti dentro che possono appunto avere la superiorità numerica però è ancora meglio la situazione in cui anticipa la giocata già quando è più basso perché il pallone come vi dico sempre viaggia più veloce chiaramente del giocatore quindi meglio giocare prima verso il centro un cross un filtrante così insomma si è più vicini subito alla porta avversaria il cero campista difensivo compito di support abbiamo detto contrasti più duri riva di più tira di meno corri meno rischi perché lui si deve essere bravo nel palleggio abbiamo detto ma non deve diciamo perdere palla perché se poi la perde la palla è un casino quindi deve si rischiare diciamo il passaggio ma solo quando realmente può farlo quindi evitiamo insomma di mettere il corri più rischi come se fosse un regista ecco perché non ho messo il regista ma ho messo appunto il giocampista difensivo attenzione al contrasto più duro qui è molto importante che il giocatore che ci mettete non abbia aggressività troppo alta se no c'è il rischio che poi diciamo sia il classico giocatore da sostituire nel secondo tempo spesso e volentieri perché si becca già l'ammunizione nel primo io vi sconsiglio di togliere la propria perché togliere questo contrasto duro fa abbassare proprio i contrasti un pochino per quanto riguarda la gestione per l'intera stagione cosa che potete andare a controllare dal centro dati si abbassa leggermente questo per far capire appunto che molto dipende dai contrasti proprio da quella diga che fa il centrocampista difensivo che il primo filtro o meglio il secondo filtro visto che il primo è già il centrocampo perché se salti lui poi chiaramente c'hai ovviamente poi solamente uno contro uno con i difensori centrali non ha il vai avanti appena possibile perché non si deve buttare in avanti deve creare appunto bilanciamento dietro come vi dicevo e non ha il tenere posizione perché non deve essere per forza fisso in quella zona deve muoversi a molla come vi ho detto vedete che insomma le istruzioni le abbiamo scelte proprio per creare una certa dinamica di movimenti la mezzala a destra e a sinistra è identica quindi ne andiamo a vedere semplicemente una qui siamo di fronte a un ruolo particolarmente già personalizzato abbiamo aggiunto semplicemente viva di più tira di meno corri più rischi vogliamo un giocatore appunto sia molto propositivo ma che non si va ad allargare quindi non ha il cross più spesso non ha l'allargare chiaramente il gioco questo perché si è una mezzala deve spostarsi un po' dalla zona centrale ma deve andare a imbucarsi continuamente comunque la forzatura di stare centrale non largo l'abbiamo sempre messa con le imbucate ecco perché insomma c'è un bilanciamento chiaro di questa data quindi cercate di spostare meno cose possibili se volete un po' modificarla perché ripeto è veramente studiata per funzionare bene così contrasto più duro vi ho detto che la mezzala deve essere un minimo abile anche alla fase difensiva quindi mi raccomando non prendete solo mezze ali in grado di attaccare la profondità e poi non sono capace di difendere se nelle statistiche su FM si ha con voti sotto il 7 quindi mi raccomando andiamo a vedere per esempio Bastoni che qui ho comprato per fare la mezzala lui non è chiaramente di default una mezzala ma Bastoni è un giocatore che vuole dopo giocare anche nella zona centrale del campo questo perché è un giocatore davvero trasversale davvero duttivissimo e tra l'altro costa anche poco detto questo vedete come ci sono contrasti marcatura e posizione ora non è che devono essere per forza così alti come in Bastoni però mi raccomando non andate sotto l'8 sotto il 9 perché sono valori veramente minimo ma che servono proprio perché se poi hanno 5-4 hanno il malus nella fase difensiva e poi vengono saltati vi ripeto le mezzali devono fare un po' anche da primo filtro al centro campo quindi devono essere bravi anche un minimo alla fase difensiva sotto il 7 non va bene in quelle caratteristiche difensive per quanto riguarda invece l'ADS questo è una sorta di attaccante aggiunto come tra l'altro ci dice anche la parola ma si abbassa anche molto in fase di ripiegamento quindi mi raccomando anche qua un minimo di contrasti marcatura e posizione ma non vi chiedo chiaramente voi alti cercate di non scendere sotto il 5 almeno perché ripeto se no poi quando si abbassa non serve praticamente a nulla è chiaramente più importante la fase offensiva ci mancherebbe atto quindi fine di azione freddezza movimento senza palla intuito sono sicuramente queste le caratteristiche più importanti però per quanto riguarda le istruzioni marcatura stretta così si abbassa ancora di più vedere che stiamo sfruttando queste istruzioni che serve per far abbassare un po' di più il giocatore per aiutare la fase diciamo difensiva e trasformarsi in un altro quarto di centro campo contrasti più duri queste due impostazioni sono già di default abbiamo messo anche il tira di meno perché vogliamo ovviamente che il ragazzo vada più che altro a servire palloni giocabili per le punte vediamo anche l'uomo d'aria mi raccomando un giocatore un po' più alto un po' più bravo anche nei colpi di testa è sicuramente utilissimo questa soluzione contrasti più duri per andare quindi a stradicare il pallone dal difendente che alle volte come sappiamo su FM2 si blocca e lui va a levare il pallone muoversi negli spazi non gli ho messo il tira di più perché vorrei appunto che tirasse solo quando veramente può servire centra avanti andiamo quindi a vedere anche le istruzioni qui contrasto più duro per lo stesso motivo che abbiamo già spiegato per l'altro attaccante corri più rischi anche in questo caso non abbiamo messo il tira di più volendo potreste mettere il tira di meno ma per quanto mi riguarda l'attaccante deve segnare quindi ho preferito non andare a mettere il tira di meno vediamo adesso qualche clip la prima di Udinese Verona partita di campionato dove possiamo vedere due cosine la prima che l'ampiezza larga che abbiamo impostato nella tattica non rende così larghi tra loro i giocatori vedete come io adesso vado a tracciare la proiezione durante questa azione addirittura dall'area piccola neanche dall'area estesa vedete come tutti sono concedati al centro se io non avessi messo un'ampiezza larga i giocatori sarebbero stati ancora più schiacciati quindi avremmo ancora di più diciamo avuto dei problemi per quanto riguarda poi la zona laterale del campo se si perde palla ripeto vedete che insomma già qui abbiamo un po' di spazio che però insomma viene coperto dall'esterno completo che per quanto chiaramente possa essere un giocatore che attacca questo disegno così è veramente strano e poco poco diciamo simpatico ma ripeto vedendo i due giocatori appunto sulle fasce l'esterno completo non va ad attaccare tantissimo a profondità come vi dicevo ma aiuta la fase di ripiegamento e sarà fondamentale nel caso in cui si perde palla ma i giocatori ripeto restano molto al centro questo perché ovviamente hanno anche il passaggio che li costringe comunque a non essere troppo larghi vedete come insomma questo rombo è molto ravvicinato e fa sì che insomma facciano anche da primo filtro per quanto riguarda poi i difensori centrali perché se uno di questi perde palla c'è sempre l'altro che può chiaramente andare ad aggredire e recuperare ovviamente il pallone vediamo lo sviluppo dell'azione vedete come si passano la palla tranquillamente i giocatori al centro e poi arriva il gol da lontano perché come abbiamo sempre detto l'ads ha il tira di meno però ovviamente se ha un buon tiro se vede che ci sono le condizioni di poter andare al tiro è chiaro che ci va in questo caso se noi torniamo un po' più indietro possiamo proprio notare come le due punte erano già marcate vedete come in questo caso i due attaccanti erano marcati il 4 va a controllare il 7 il 27 va a controllare il 12 quindi Samarzic dice caspita è di fronte a me ce la potete fare tiro tiro e quindi va a fare appunto un gran gol ma in un'altra occasione vedete come invece lui non andrà al tiro proseguiamo questa è l'azione che porta Maggiore a girarla a Samarzic e qui vedete come Samarzic non avanza palla al piede perché può diciamo essere ottimista sul movimento senza palla di Raspadori questo perché ovviamente Samarzic qui è più lontano rispetto alla porta quindi già questo sarebbe meno indicato per andare al tiro ma soprattutto questo fa sì che anche i due attaccanti siano meno vicini alla porta e quindi meno facilmente marcabile la difensore è chiaro che quando l'attaccante ha la possibilità di aggredire maggiormente la profondità può andare a superare con la corsa il difendente tra l'altro come potete appunto notare Raspadori è quello che viene servito non a caso perché Raspadori è il centro avanti giocatore è quello che attacca con maggiore efficacia la profondità mentre l'uomo d'aria ha meno nelle sue corde quello di fare questa tipologia di giocato è più un giocatore che attende per poi andare a fare gol quando ha la posizione direttamente di andare al tiro rivediamo anche l'azione di partenza vedete come Raspadori ha la possibilità di attaccare la profondità perché non è marcato davanti dal difendente quindi Samarzic la butta più in profondità in maniera tale che lui con la corsa il signor Raspadori possa appunto bruciare il numero 27 poi sfortunato perché la palla la intercetta Casale lui all'ultimo troppo defilato Raspadori voleva tentare un passaggio però la palla finisce ancora a Raspadori che addirittura è una posizione molto angolata riesce comunque a fare gol questo è anche il vantaggio di avere un giocatore che può tirare diciamo di destra di sinistra insomma ha tante soluzioni perché è ambidestro altra partita di campionato questa volta tra Empoli e Odinese qui si vede proprio come si muove la DS quando ha la possibilità di attaccare la proponità come se fosse appunto una punta perché in questo caso vediamo come Raspadori è praticamente accerchiato Beto ne ha uno in meno e in questo caso la DS potrebbe andare direttamente verticalmente diciamo che Wallace in questo caso non crede molto nella DS e preferisce girarla più che altro al signor Beto che però è forte di test vedete come questa volta diciamo la scelta poteva essere più sensata per Beto perché era magari meno marcato rispetto a Raspadori ma su Raspadori puoi fare al massimo una giocata che prevede la profondità quindi un lancio un lancio lungo dove magari si sarebbe anche allargato mentre quando vuoi una sponda rapida vai sul giocatore forte fisicamente che in questo caso appunto è Beto che è proprio quello che accade in questa azione con la DS che spera in maniera ottimista di poter essere servito appunto di sponda da Beto Beto va verso il pallone da grande giocatore perché grande giocatore non deve stare fermo ma deve andare verso il pallone capendo quale poteva essere appunto la giocata di Wallace e Beto la va a girare appunto a Samaric che si supera diciamo il diretto difendente va poi al tiro centralmente non sbagliando il gol il video su 4-4-2 a rombo di Cesare Prandelli termina qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se appunto lo proverete fatemi sapere anche i risultati che otterrete vi ricordo che però mi trovate anche tutti i giorni in live su quella piattaforma viola e proprio quest'oggi continueremo a utilizzare proprio questo modulo in Germania per rompere l'egemonia del Bayern di Monaco provando a riportare al successo in un solo anno una squadra tedesca che non vince da tempo in Memor buon salvone a riportare